Attiva fino a una decina d'anni fa, Cascina Stella è stata rimodulata. Non è più utilizzabile per prestare soccorso e prendersi cura degli animali, anche se si arrivava a salvarne 500 all'anno. Non ci sono più le gabbie e soprattutto non c'è più nulla della sala per gli interventi. Adesso c'è solo una famiglia che fa da custode a ciò che è rimasto. Le motivazioni potrebbero essere molteplici, dai costi proibitivi alla carenza di personale a scelte a vari livelli. C'è tutto il bosco didattico, c'è tutto un insieme di cose, all'interno c'è ancora il museo, ci sono altre cose, non c'è più il crash, quindi anche il discorso della sala operatoria, delle gabbie di accoglienza, tutte queste cose, non c'è più niente. Chiedo aiuto perché io devo dare risposta alle persone. Io ho già veterinari, ho il Parco del Serio che mi ha contattato, che vorrebbe dare una mano e contribuire. C'è tutto un movimento che si è creato intorno, anche i normali cittadini che vorrebbero donare il tempo per aprire un piccolo pronto soccorso. Cioè dove non sai prendi e porti, perché la regolamentazione di regione e dello Stato è molto rigida, quindi teoricamente trovi e devi lasciare lì. Io purtroppo a volte non ce la faccio, perché se li lascio lì lì calpestano le macchine, le schiacciano. Ma è un problema reale, concreto, perché ora, come conferma Giuseppe Papa che come volontario aveva contribuito a creare la struttura, si devono fare chilometri e chilometri. Curtatone, Mantua, Piacenza, Pavia, Bergamo, cioè zone non troppo lontane da noi, che si fa 100-150 km per portare un animale. Anche la persona di gran cuore non ce la fa, e quindi preferisce la scorciatoia. Non si può sempre lasciare tutto solo a volontariato. L'appello riguarda dunque il ritorno di un piccolo centro di pronto intervento. Lo dico a tutti, è sentito. Non ho mai ricevuto tante telefonate per questo. Addirittura mi stanno chiamando tutti i gruppi animalisti, ambientalisti, eccetera, però non è che posso dirgli, cioè non sto facendo una battaglia, sto facendo semplicemente una richiesta. Datemi un posto e datemi le condizioni, un po' di buon senso, perché non è che posso fare tutto quello che c'è scritto nel decreto. Un piccolo pronto intervento, come un pronto soccorso.